eccoci qua come promesso perché nei mesi che ti diamo la caccia ce n'è stato chiesto di donarti questa sciarpa qua per la nostra trasmissione e quindi adesso lo investiamo una medaglia d'oro nel nostro piccolo e la sciarpa la trasmissione adesso ci farà di un autore e poi se c'è di portare ce li sveleremo per cosa serviranno noi quelli che non vanno via nel fila del piatto è un sogno a primavera sarà un altare, una banchiera, una città siamo noi, siamo una canzone nuova noi, la musica che volerà le nostre voci come un cuore a primavera le sentirai cantare in tutta la città siamo noi, quelli del noro quelli che hanno il cuore dove gli occhi dentro il cielo siamo noi, tuori granata e sarà un cuore solo per tutta la vita siamo noi, quelli che vanno avanti perché siamo in tanti e non abbiamo età e siamo noi che abbiamo mille voci perché siamo a vince e non vogliamo mai quando due spada siamo ci farà paura la nostra storia è vera e non si fermerà siamo noi e quando serve di più la nostra fede è proprio allora che si vede quanti siamo noi non ci arrendiamo mai perché cantiamo forte quando la sorte non sta con noi siamo noi e quando il gioco si fa più pesante è proprio allora che si sente che il toro sia un odore la delgia come un sogno a primavera